Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial in collaborazione con Yucla Craft e visto che San Valentino l'è forte ho pensato di fare qualcosa di un po' romantico ho creato questo layout in formato A4 dentro ci ho messo un po' di ingredienti, gli acrilici, ho usato gli stencil, i black stencil di Yucla ho utilizzato come base questo banner classico, i rametti prisma e poi le mie adoratissime paroline il tema principale ovviamente sono io e il mio fidanzato in una vacanza quando ancora si poteva andare in vacanza liberamente io adesso vi lascio al video tutorial e sono come sempre curiosa di vedere le vostre realizzazioni ovviamente adesso dobbiamo andare a vedere come è stato realizzato e allora testa bassa e buona visione, ciao alla prossima ispirazione e allora testa bassa e buona visione a presto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.